La segherina del Fino di Oleggio Castello ha chiuso i battenti, 18 dipendenti sono a casa, 18 famiglie in crisi. Che cosa è successo? È successo che questa crisi che si protrae ormai da circa 6 anni e ci ha visto comunque in considerazione di diversi periodi di cassa di legazione e guadagni, l'ultima richiesta di cassa di legazione e guadagni è il 20 di dicembre e soltanto il 2 di gennaio siamo stati convocati dal consulente che ci mostrava questa situazione. Scontati i giorni di Natale e tutto quanto ci siamo chiesti come mai soltanto dopo 4 giorni di una richiesta di cassa perveniva questa situazione e ci è stato detto che il Fino non se la sentiva più. Purtroppo abbiamo sulla strada 17 dipendenti con le loro famiglie, abbiamo una situazione economica che vanta un credito di circa 650 mila euro per i dipendenti, un milione e mezzo per quanto riguarda lo Stato e poi c'è un'altra cifra considerevole che si evince dai bilanci che noi abbiamo valutato volta per volta sui tali trattativi anche con i fornitori. Chiaramente a noi quello che ci si interessa maggiormente che è la nostra parte come sindacato provinciale è i lavoratori, cosa si fa di questi lavoratori? Abbiamo sul tavolo la possibilità che probabilmente ci sia un imprenditore che voglia rilevare questa azienda, il sindaco di Olegio Castello oggi ci ha convocato. Voi state cercando di salvare tutte le carte possibili per salvare soprattutto l'azienda? Sì, l'intento del sindacato in questo momento è quello di cercare di salvare anche un pezzo dell'azienda, soprattutto anche per dare possibilità ai lavoratori di ritornare a lavorare.